definiamo la sterilizzazione come un processo che porta alla sterilità del prodotto perché processo perché composto da una serie di azioni che seguite in modo corretto portano per l'appunto la sterilità del prodotto queste azioni sono la decontaminazione la detersione la sterilizzazione lo stoccaggio la fase di detersione è quella più delicata per la nostra assistente in quanto è quella in cui può ferirsi più facilmente la detersione può essere fatta infatti in tre modi a mano meccanica in ultrasuoni e meccanica in termodisinfettore le linee guida ispes del 2010 suggeriscono che la fase di detersione venga fatta meccanicamente anziché manualmente questo per evitare il rischio che laso corre durante la manipolazione degli strumenti che anche se decontaminati comunque hanno ancora una carica microbica la decontaminazione la vasca ultrasuoni avviene attraverso un processo di cavitazione vuol dire formazione di bolle d'aria attraverso i trasduttori degli ultrasuoni che a contatto con lo strumento implodono e staccano lo sporco bisogna ricordarsi assolutamente che gli strumenti vanno posti nel cestello della vasca ultrasuoni e non sul fondo della vasca perché così altrimenti si rischia di rovinare i trasduttori della vasca poniamoci le solite domande quale liquido devo mettere all'interno della vasca ultrasuoni dato che la vasca funziona per un processo di cavitazione teoricamente è sufficiente mettere dell'acqua tuttavia le linee guida dell'ispes 2010 suggeriscono di mettere all'interno un detergente almeno enzimatico per riuscire a rimuovere al meglio lo sporco della superficie degli strumenti una domanda che viene fatta spesso è se metto un disinfettante dentro la vasca ultrasuoni posso far coincidere il bagno di decontaminazione con quello di detersione la risposta è no sia perché il bagno di decontaminazione deve essere fatto con un disinfettante mentre invece quello di detersione deve essere fatto con un detergente sia perché i tempi di bagno non coincidono un'altra domanda è metto in vasca una soluzione fredda sì posso farlo comunque la vasca ultrasuoni poi riscalderà questa soluzione la temperatura mediamente di esercizio intorno ai 40 gradi temperature inferiori vengono utilizzate per esempio per strumenti sporchi di sangue perché temperature elevate coagulano sangue e rendono difficile la rimozione dello sporco temperature più elevate possono essere utilizzate per rimuovere sporco più consistente ad esempio quello dei cementi un'altra domanda è quanto tempo devo tenere a bagno gli strumenti dentro la vasca ultrasuoni attiva mediamente 10 minuti le linee guida del lispes raccomandano almeno 5 minuti bisogna ricordarsi che tempi troppo lunghi di attivazione non producono migliori risultati ma possono rovinare la superficie degli strumenti dopo la fase ultrasuoni il materiale deve essere nuovamente spezionato e quindi si procede con la fase di asciugatura le linee guida del lispes ci dicono che l'asciugatura può essere fatta con carta oppure tramite aria compressa l'aso deve porre nuovamente estrema attenzione durante questa fase per evitare il ferimento con strumenti che ancora non sono perfettamente ricondizionati